eccoci qui appena tornato dello stadio un freddo bestiale salate ma c'è un raffreddore questo ghiaccio incredibile anche a piedi oggi quindi ancora le più e niente nato nello stadio gubbio vince 1 a 0 grazie al gol di chinellato quindi buona la prima per lui ottima prestazione di lei che smentisce tutti i criticoni che già dicevano forse che non era intanto il psg vince 9 a 0 ecco cacchio è mamma mia col cui camp dai questa gente adesso onestamente dubbio che vince 1 a 0 quindi sentisce i criticoni già dicevano che non era chissà che oppure che non ha fatto chissà quanti gol invece oggi prima presenza primo gol e venivo bene così ottimo forse il primo tempo non è stato chissà quanto spettacolare però almeno il secondo tempo invece si è cambiata faccia e abbiamo l'abbiamo vinta primo tempo tra l'altro hanno preso anche una traversa diverse occasioni negli ultimi dieci minuti fino al trentacinquesimo è stata una basita abbastanza equilibrata poi dal trentacinquesimo poi forse tre o quattro occasioni loro c'era di potanto ci saranno gli alice che parleranno quindi non è che non mento niente e poi secondo tempo forse proprio più più gubbio che rispiesero tra l'altro belli i cori verso l'ex marco briganti che è stato con noi per sette otto stagioni e mezzo forse non mi ricordo bene ma però parecchio tempo altera il mio idolo incontrastato redini che ha preso adesso piccini tra l'altro giocano lo stesso ruolo quindi tra l'altro oggi anche capitano un grande matteo ottima prestazione anche per lui a dire un po tutta di partita di sacrificio non è stata una partita spettacolare ma l'importante è portare a casa i punti da me mi interessa amare il gioco da me mi interessa i punti ecco è questo è il capitolo cubo per me migliori in campo sicuramente chi nel lato di silvestro anche ha fatto una partita mamma mia un'ala incredibile e niente questo era il capitolo cubo contento per la vittoria bene così si va a 24 punti sono contento peccato per il freddo che ti congela le mani ti fa fama niente però questa è l'unica credica costruttiva che posso fare oggi il grandissimo freddo ma purtroppo questo non c'è se poi le fa niente neanche se possono portare i condizioni a torri allo stadio verensamente però bene così sono contento così da me mi basta il poco non mi basta che si vince il gioco non mi interessa niente adesso prossima partita martedì con l'albino leff che lo sarà uno sconto diretto magari se riuscissimo a vincere anche quello forse ci teneremo fuori definitivamente forse dalle sabbie mobili e niente questo era il capitolo dubbio adesso cominciamo il capitolo roma da qui sarà un po più aspro perché come cazzo se fate al 2 a 0 al 2 a 2 anche se io ho visto solo il primo tempo quindi posso giudicare solo il primo tempo per bene primi dieci minuti non mi è piaciuto in granché honestamente poi ci siamo sciolti dopo il gol 1 a 0 di rigore 2 a 0 poi ci sia infortunato under tra l'altro quindi peggio che peggio ultimamente ogni partita almeno un infortunio e secondo me c'è qualcosa che non quadra perché non è possibile che ogni partita uno san fortuna così cazzo quindi c'è qualcosa anche lo staff che c'è da ragionarci sopra cazzo di l'altro anche un dal che è uno dei migliori sicuramente quest'anno della stagione questo è poco ma sicuro quindi io so parete sul 2 a 0 fin il primo tempo poi sono andato allo della diabete del dubbio e fin qui sembrava una parità liscia come l'olio bene però ho detto ad un amico mio della roma gli ho detto guarda che tu qui giocavo con l'entella ma giocavo col torino attenzione e testa fino al novantasettesimo non fa un tempo di queste parole che dopo un po' 2 a 1 in con dopo un po' 2 a 2 anzalli e allora ho detto vedi non è che la voglio che fa io ma conosco troppo bene la roma per per di ste cose purtroppo non se poi risulta fino al novantasettesimo perché siamo esperti in rimonte clamorose per fortuna c'è la salva e cerava e se dopo vedrò i rights del secondo tempo perché non ho visti poi solo tramite notifiche ma hanno visto nient'altro quindi non so come è andato realmente il secondo tempo però se adesso arrivo però c'è la di che non seppole subì due gol soprattutto contro del torino in dieci minuti forse anche cinque e magnace ha detto da uno quale amico mi ha detto anche che ci sono mangiati diversi gol quindi questa è un'altra prerogativa della roma quella che ciucciasse tutti i gol onestamente e niente e mo vinto però c'era lavorare sta sempre con la testa sul campo perché appena uno smorcia al cervello 2 a 0 2 a 1 2 a 2 ci manca poco che non perdiamo anche l'ho letto io in campo e charavi su zaniolo zaniolo ragazzi siamo fatto un acquistone secondo a mio parere insieme con robenuzzen un acquistone davvero oro colato è stato accaduto anche a segna segna anche spesso ottimo proprio prestazione bel gollo visto su sky sky purtroppo al secondo tempo per ragioni di orari di merda la riga come spiegavo l'altra volta non l'ho potuto seguire comunque ottimo zaniolo forse non mi è piaciuto nel primo tempo kluivert come si chiama perché onestamente un po troppo fumoso onestamente non perdia sempre palla eccetera ottimo anche karlsarp almeno nel primo tempo e purtroppo parlo nel primo tempo al secondo tempo posso analizzare solo i due gol subiti che non l'ho neanche visto quindi posso analizzare niente troppo oggi è così per fortuna la prossima sarà diversamente perché giocheremo in giocheremo in giorni diversi quindi analizzerò per bene tutte e due farò medio per ognuno ovviamente e quindi corsi oggi io ero in campo zaniolo con la roba su rigore bene dopo non lo so com'è nata e dopo lo so delle colpe adesso dei gol subiti di chi è adesso queste no diciamo pagelle parziale alla fine comunque due vittorie oggi diciamo che è abbastanza raro vedere il gruppo e la roma vincere insieme quindi pia ma c'è stato vittorio e sti cazzi onestamente bene così però magari meno patemi soprattutto con la roma lo dio anche il gubbio negli ultimi minuti sempre un po una zero un po sempre aperta aperta infatti ogni parte ogni un'altra prerogativa sono i guardalini scadenti davvero scadenti oggi perché erano scadenti sempre un po cura dire 55 falli avrò contato e niente sempre prediche se vogliono fare prediche andassero alla messa onestamente io sempre chiacchierà sempre a parlà bla 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 però nonostante tutto abbiamo vinto vi appiateva l'ancur pesciaroli come dicono dicevo così andate al mare non stare che a pagare e quindi ottimo così spieghiamo sti sei punti tra tutte e due e cerchiamo di migliorare in seguito bene la prossima sempre forza roma è sempre forza gubbio